ciao amici grandissimi dobbiamo comprare 3 milioni e 4 c'è ancora sono collegato ieri quindi diamo subito in sardegna ciao mitici e mitiche allora arrivo subito eh vado prendere lo sprizzettino eccomi arrivo eh sono qui ragazzi un bello sprizzettino perchè è anche nel titolino della live eh 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 quindi un secondo ragazzi che non riesco a reggere ciao amici e amiche prendo lo sprizzettino e arrivo eh perchè c'è anche nel titolino oh wow ragazzi nuovo come sprizza come sprizza amici miei non riesco a leggervi eh un attimino che arrivo ragazzi buon 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 sono qua queste sprizza ok eccomi qua eccomi qua amici eccomi qua amici miei eccomi qua bella bella raga grandi bella sharder amico mio non vedo l'ora di andare a vedere la livrea ciao amici ciao amici tutti ah titolino sprizza in compagnia allora ragazzi devo andare a vedere la livrea che mi ha fatto sharder facciamo subito la livrea visto che non ho ancora cominciato visto che non ho ancora cominciato ciao sharder amici miei come state? mmm ahhh 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 un bel sprizzettino bella sharder amico mio dai che andiamo a comprare la macchina la tua livrea eccola 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 voglio vederlo amico mio questo è di chi è amico mio? ciao ragazzi marco del sharder bragali tv fammi vedere un attimo sharder ciao ciao loki ciao amico mio come stai? uehh frac dai vai a mangiare intorno amico mio non lo so loki vediamo ciao ciao ragazzi grandissimi accade ah scuderia italia skyport ciao grandissimi ragazzi che bello rivedervi penso che dalla nostra scuderia dell'accademia è bellissima sharder bella bella proprio eh t marco dramsgain sharder design bragali tv esatto esatto è la nostra scuderia che bella che bella loki zubitos tv vediamo 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 sub 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 ufficiale grande sharder bella idea vediamo un pezzettino del drift del loki a zubituzzo tv eh amico mio interlagos brazil raga come sgomma l'occhi non sgomma nessuno raga che buono spritz che buono spritz buono spritz a tutti raga bella bella lì roki e adesso devo andare a prendere subito la laurea del mio amico sharder poi dobbiamo farci due o tre sardegna ragazzi perchè stasera devo comprare la macchina eh quella me la tirano via la miura e non so se il mitico sharderino ha voglia di farsi una garetta e il mitico loki ci facciamo una garetta ragazzi ah ah da dentro guarda che roba grazie fra feste grandissimo per il follower dai raga dai raga che arriviamo 570 forza ah ok ok loki guardatelo loki come è preso girare e vediamo se sharderino ha voglia di farsi una garetta io e lui ah 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 bellissimo 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 loki grande grande loki è sempre un piacere vederti sdrisfasfare drisfare allora vediamo un attimo ah bravo 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 uuuuuh 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 due gare non erano male sempre se riesci due gare non erano male sempre se riesci vediamo 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 bai uuuuuh uuuuhuuh uuuuuh uuuuuhhhhhhhhh assessed fatto proprio così con il grigio, il rosso e il nero bellissimo oh grande ti voglio bene amico mio Marco Drown sul vetro si deve vedere bellissima 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 davvero bellissima Sharder vediamo questa è la tua amico ah no questa era l'altra ancora in preparazione ok allora andiamo subito a a caricare ah sprizzettino andato eh allora possiamo anche tranquillamente Sharder fare una una Sardegna con la livrea nuova eh eh si amico mio perché non va no non dirmi che non è l'R8 LMS15 che macchina è Sharder oh cacchio ma che perché macchina è ma perché perché Audi è R8 LM EVO 2019 ah ok grandissimo bella lì bella lì ciao 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 amico la 2019 aspetta un attimo allora macchinini allora eh si infatti incredibile allora Germania facciamo così va che no 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 si sono belle Sharder bellissime bellissime allora per la 2000 e grazie Loki che sei passato amico mio vedai che abbiamo visto il tuo replay insieme grande grande Loki allora per la 2019 per la 2019 questa è no no sono io che ho sbagliato auto avevo preso quella vecchia Loki invece è dell'evoluzione impossibile caricare bellissimo ok errori su errori comunque oggi sono usciti i giochi del playstation plus eccola qua mamma mia che bella non vedo l'ora di andare a correre no no per fortuna no no Sharder figurati sono io che ho sbagliato ho preso quella vecchia uh gratuita tra l'altro ciao Loki domani sera domani sera probabilmente porterò anche un gioco nuovo domani sera ragazzi eh Spielforce 3 re qualcosa ciao ciao Loki amico mio ciao 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 bello accendi accendi accende faccio una 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 cosa quindi fai con calma Sharderino faccio una Sardegna e la faccio con questa macchina qua allora domani amico mio no Spielforce 3 poi possiamo fare mercoledì e domani Spielforce 3 che è in day one edition poi giovedì sera giovedì sera possiamo fare possiamo fare farming dai giovedì sera amico possiamo fare giovedì allora sto condividendo la live io comunque oh sbagliato c'era a fare anche la patente con la famosa patente patentucola patentocola ok Sardegna accendi pure fai con calma allora io farei qualcuna che qualche pista che abbiamo fatto che ci piace tanto magari al contrario così proprio da avere una una pista nuova un po' per tutti eh cosa dici Sharder ciao Giulia amica mia come stai amica amica ciao Carla non c'è è andata a camminare allora ok questo è sempre il problemino delle delle Audi vediamo un attimo quanto consuma la 2019 perché la 2016 consumava un botto meno eh sì eh sì vediamo se riusciamo Marco dai sta bene oh brava brava bravissima eh c'avevo un botto di ritosse eh madonna bisogna frenare cioè fermi fa sta curva eh sì amico mio è assurda è assurda sta macchina va 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 che roba è tutta in drift bravo proprio proprio andar piano brava brava giù lì sei già ammalato due volte però una dietro l'altra caspita d'estate che balle che balle andiamo non mulare mai mulare mai mollare raga allora giuri domani sera portiamo un gioco nuovo un gioco nuovo spillforce 3 è uscito oggi esatto mai mollare mai mulà ciao lord amico mio domani lord domani porto un gioco nuovo spillforce 3 grande lord allora poi torniamo giovedì invece amici miei con farming simulator col mitico shard design con il nostro amico marco e invece venerdì ritorniamo con eh sì amico mio io non ho neanche hard disk per il formula 1 devo cancellare qualcosa per forza oh scusate scusate devo passare è vero è vero è un gioco nuovo è di quelli hai presente che devi spostare tutta l'armata loro combattono roba fighissima allora è un remastered di un gioco di un po' di anni fa però per playstation 5 e xbox serie 6 è uscito oggi stasera avevo già promesso a tutti voi che facevamo gran turismo anche perché io devo comprare la miura eh cioè non è che poi oh 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 perdono perdono corvette perdono a rige of empire esatto bravissimo ciao ragazzi ragazze iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto dai che arriviamo al 570 amici esatto grosso modo esatto esatto poi possiamo fare una serata anche oh amico lucas grande grande lucas lucas sai cosa ho comprato porca loca oh sta macchina è impossibile è spill force 3 quel gioco che è tipo è presente tipo i siga quelli da fare la io comunque raga devo fare niente al world ciao andree no oro nurburgring bravo grande andree andree mitico beh ascolta oh raga dai per andree che ha fatto oro ma porca miseria ma che mi ruba la roba ecco allora per andree che ha fatto l'oro al nurburgring si sta gli occhiali bravo grande oro al nurburgring è tanta roba andree grande con gli occhiali hai visto hai visto amico mio bravo 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 raga che caldo tra un po' non basta più l'uno al ventilatore devo metterlo su due ciao amici amiche di twitch benvenuti 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 grande grande andree io devo devo trovare il modo di fare invece la patente grandissimo ciao uomo tigre porca miseria uomo tigre è arrivato il cervello grandissimo come stai ciao ciao bello uè dsc bella lì raga grandi grandi raga allora vi faccio vedere una chicca guardate guardate orca miseria a 40 all'ora sta macchina mamma mia guardate la macchina di marco drums games nuova livrea che ha fatto sharder design no 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 ci stavo provando ma non l'ho fatto oro amico mio e magari 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 andreea se l'avevo fatta ero felice mancava solo di fare le gare online 50 e 40 photoscapes che vabbè ci vuole nulla e invece no e invece mi tocca ciao uomo tigre orca miseria sta macchina non tiene non tiene io tutto bene tutto bene grande grandissimo uomo tigre si 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 tutto bene allora diciamo tutto bene adesso uomo tigre perché praticamente cosa è successo ho fatto una live giovedì scorso che era festa di 12 ore a gran turismo mi sono talmente spaccato tutto che poi venerdì e sabato non ho fatto nulla ah 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 ero devastato perché io certe cazzate non posso farle non posso vedere ragazzi che fanno 12 24 36 ore di live io e io con la mia età a farlo esatto esatto ragazzi chi vuole orca miseria sta macchina è terribile chi vuole fa parte dell'academia e sei uomo tigre anch'io adesso rido ma ti giuro che venerdì e sabato non ridevo ce l'avevo un po' con me anche vabbè sono entrate 160 persone quindi sono stato felicissimo è stata una bellissima live però ragazzi che massacro che massacro no no mai più mai più mai più allora ragazzi se volete entrare nell'accademia di Marco Drums Games Channel e Charter Design potete scaricare la nostra livrea che adesso poi vi faccio vedere e far parte della nostra mitica squadra ok così quando giochiamo con la subarossa BRZ si può correre tutti con la con la stessa livrea che è veramente una cosa fighissima grandissimo Charter che idee che idee fighissime che hai allora io sono al tredicesimo al quinto giro e sta macchina ha la frenare mamma mia che ossessione sì 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 Andrea vai su su seguiti Charter Design oppure sì oppure bisogna cercarla come la cerca Charter amico vabbè se c'hai Charter tra gli amici la trovi subito tra i seguiti se no la cerchi come penso Marco Drums dai così quando giochiamo giochiamo tutti con la stessa macchina la stessa livrea oh bravo dai 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 che corriamo con la Subaru che è una figata è una figata quella Subaru lì consuma un voto devo dire la verità però io con questa con questa Audi non so se ce la facciamo ma si scarica con l'Arc Giulia che cos'è l'Arc col Barcode dici quello che ho fatto ma dai mamma mia sta macchina cioè Charter è un disastro sta macchina cioè dai ma non arrivo prima madonna questa macchina ma non potevi farla per l'altra Audi quella del 2016 no questa è impossibile ragazzi ah no il QR code è solo per iscriversi ai miei canali tu spari il QR code e ti porta su Twitch o su YouTube no dai non si può fare questa macchina è incredibile ragazzi no ma scusa di che cosa amica mia non avevo capito che cos'era no 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 allora la livrea è bellissima ragazzi la livrea è fantastica l'altra però sta in pista e dura dieci giri la benzina amico mio guarda ti faccio vedere allora ma tu dici che non è uguale cambia proprio perché guarda una del è uguale questa è Evo e questa ma dovrebbe essere uguale come robot tu non puoi prenderla e importarla sull'altra Sharder no davvero ah ma questa c'ha 800 cavalli aspetta però non serve a niente 800 cavalli l'altra quanti ne ha scusa ah è un po' diversa 500 751 760 dai più o meno l'ho messa l'ho messa lì vediamo un attimo ciao amici e amiche di twitch sto cercando di fare questa corsa questa gara per poi andare a giocare con il mitico Sharder per fare i soldini per fare i soldini perché ci servono i soldini per comprare la miura vediamo sto tirando giù un po' ah 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 questi 800 cavallini eh amico mio grande lord vediamo se riusciamo raga aspetta aspetta vediamo un attimo se magari tirando giù un po' i cavalli ce la faccio perché caspita si ok brava brava giulie grazie dopo guardo ciao Kevin l'amico mio quando arriva sta console quando ti arriva la console Kevin poveri cavalli eh si infatti quando arriva sta console domani dai ah ok li chiami e che cavolo stanno mettendo un po' tanto eh guarda che macchina mi ha fatto eh scusa c'è che c'era anche la festa settimana scorsa ma guarda eh guarda la libreria che mi ha fatto Shard che figata ciao amici amiche di Twitch se vi piace se vi piace il canale non siete ancora iscritti iscrivetevi ragazzi ragazze perché l'ordio perché l'ordio l'ha presa perché l'ordio l'ha presa non credo ha preso un raffreddore l'ordio magari da laggiù Audi ha picco motore magari magari che giocava con noi lord si prendeva gran turismo e si metteva a smanettare insieme a noi arrivo subito ciao ciao Grazie a tutti. 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 Dai, 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 oh, che botta, caspita, sta macchina è terribile però, eh, spiegali Sharder cosa deve fare, si vuole un nome più corto, per barco drums games team racing, ma come è più corto? Bellissimo. Ah, bravo. Eh, cavallino non è brutto, eh, ma non si capisce poi da dove arriva. Si, 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 capisco quello che dici, Kevin, però effettivamente non è, non è poi abbinabile e ritrovabile con il canale, capito? Quindi poi è un po' un casino. Fanno troppo, già io faccio i casini con i loghi, infatti adesso li sto cambiando anche su Twitter dappertutto, sto mettendo tutti il drago perché su altri c'è vuole ancora la mia faccia. E' proprio una cosa che bisogna, è la cosa fondamentale iniziale che dicono tutti e non far confusione. Sempre lo stesso marchio, sempre lo stesso logo, sempre lo stesso dappertutto perché poi se no uno non riesce a trovarti e... è un casino. Dai, queste cavoli che vanno a destra e a sinistra. Ma checko, ma che mix che devo fare? Hahaha, però li ho passati tutti. Allora, tirando giù un po' di cavalli... Si riesce a tenerla in strada, sta macchina, eh? si 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 assolutamente no no va bene va bene non c'è bisogno di fare sta livrea si può fare livrea di qualcos'altro che è ancora meglio si lord si ha fatto l'hai seguito bello eh diablo bello diablo bello diablo fammi sapere se ti piace c'è frac fai sapere a charderino se ti piace la livrea della BRZ io non so adesso se frac c'aveva la BRZ è lui è lui è lui questo mi ha passato sulla frenata ragazzi questo qui mi ha passato davvero il gioco? diablo dici? porca no non fa una stronza macchina dai è tosto però è tosto arriva primi ma perché giochi con altri scusami non è contro computer madonna ma quanto mi ha dato via per un errore curva ma dov'è? non c'è più eh sì un bel disegno ci sta eh ah ok vabbè ma c'è necessità di giocare pvp non è già abbastanza bello e lungo giocarlo contro computer ok il primo lì eh ancora tre giri buoni no tre giri buoni no in realtà sono due giri buoni raga ehi fatti fatti anch'io più vuoi voleva che sì lost ark ma lost ark non è mica quello vecchio quello che vai e inizi con con niente devi crearti ma porca miseria ma perché si braca su sta macchina c'è la parte dove devo viaggiare si 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 imbraga su ah ok è bello tosto mi hanno detto come requisiti pc eh ma è gratuito? non mi sembrava che era gratuito la gente l'ha pagato è sicuro che è che è gratis? sembra che costava 39 euro puoi dire una stronzata ma e quando esce? ah escerà il 2023 Giulia oh non riesco a prendere il primo eh eh sì e microsoft ha spostato tutto Harry Potter dovrebbe uscire a fine anno io lo compro subito ciao ragazzi deciso grandissimo come stai deciso? ciao amico mio allora sto provando a fare Sardegna con eh sì con l'Audi con l'Audi grazie 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 deciso grazie mille sì sì è stata una bellissima serata infatti ieri sera non ho stremmato siamo stati qua a festeggiare con la torta abbiamo riso scherzato siamo visti un filmetino tutti insieme e ieri sera non ho stremmato oh 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 quello là quanta benzina ha ma quanta benzina ha ma quanta benzina ha allora 7 14 8 8 8 2 3 4 5 7 è pieno cacchia allora muoviti mamma mia ragazzi che 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 roba è vero deciso è vero amico mio ah tutto bene tutto bene ho fatto una live giovedì scorso di 12 ore che mi sono massacrato infatti venerdì e sabato poi ho fatto pochissimo perché ero distrutto e a parte quello stiamo comprando macchine domani porto un gioco nuovo Spill Force 3 Spill Force 3 sì che è un gioco da pc degli altri degli anni scorsi però l'hanno rimasterizzato e l'hanno fatto strafichissimo è uscito oggi per Xbox Series X e Playstation 5 l'ho comprato per PS5 e lo porto domani sera invece giovedì deciso andiamo con Farming Simulator io e l'amico Charder se c'è poi anche Kevin viene dentro anche lui portiamo un po' di giochi nuovi così tanto da cambiare anche proprio un po' quello che guardiamo e poi il resto è tutto bene poi farò con il mitico Morris pazzarola sti qua che mi vengono addosso ma non mi vedete che arrivo Roller Champions che è un gioco gratuito di Ubisoft che è fichissimo ma Fortnite ci giochi ci ho giocato ci ho giocato ci giocavo con con cazzo ci voglio giocare con Willis e con Morris a Fortnite ci avevo giocato un paio di volte col mitico Morris e mio figlio e zan e boy adesso abbiamo scoperto come si fa a mettere il oh cazzarola è da dentro a fare la benza è uscito portirla a una belva cazzarola e vai madonna sta sta audio è terribile raga non si riesce dimmi che vuoi certo 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 quando lo porto assolutamente deciso non sto giocando molto a Fortnite ma mio figlio ci gioca di brutto il grande zan e boy vediamo se riusciamo a prendere sta che cavolo è sta roba qua il viper ma come apre ma come apre ma come apre eh no non posso Leo Leo Perché? Perché vanno fuori E non portano la chiave? Eh no Eh non si può Della macchina? Eh la macchina è Non è setappata E infatti è un disastro Ti faccio vedere la livrea se vuoi Aspetta eh Guarda GT Academy Marco Drums Leo Leo Eh niente Nessuno sente Nessuno ascolta Nessuno apre Leo Leo Apri Apri cancello Grazie mo Ciao GBR Farming Farming Simulator Amico mio Eh si L'altro setup Guarda che sono in mutande Ti faccio vedere quel setup lì se vuoi Ah Hai visto che figata Allora poi ragazzi Vitico Sharder Ha fatto le livree Per Correre Con Marco Drums Games Racing Team E se volete potete scaricarle Basta cercare come Sharder 98 E adesso poi vi faccio vedere qual è la livrea della Subaru BRZ Così quando giochiamo insieme possiamo Ecco bravissimo bravissimo Eccolo qua Sharder Grazie amico mio E metti come la devono trovare Grande GBR Grandissimi ragazzi Dai dai che si torna a correre Si torna Io sto farmando un po' Perché voglio comprare la Caspita Caspita sta macchina qui come va storta Si si è vero è vero Ok La tag è Sharder 98 raga Porca miseria Non si può star tranquilli un attimo Ah 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 Giuli Caspita Oh sei sempre tu E' portilla che rompi eh Vai contro il muro Vai contro il muro Ah 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 Mamma mia Ok frena Grandi ragazzi Grandi ragazzi Deciso domani sera Voglio portare un gioco nuovo Spillforce 3 Grande deciso Spillforce 3 E giovedì Voglio portare Farming Simulator Voglio provare un po' Stasettimana A fare un po' Di giochi Che mi piacciono un sacco E invece Spillforce E' uscito oggi Per la playstation 5 E l'xbox serie 6 Perché è un gioco da pc Ed è di quelli Alla modi Age of Empires Tanto per farti capire E voglio portare Quel gioco lì Domani sera Domani sono finite Le scuole Quindi anche I nostri amici Eh si dai Per non Si si Per non Sempre fare la stessa cosa Allora Grand Turismo Ragazzi E' il gioco Che ci ho giocato Di più Di tutti Da Tanto tempo E' veramente bello Mi piace Poi a fine mese Uscirà anche Il nuovo Il nuovo Formula 1 Eh raga Che anche con il nuovo Formula 1 Le alltrack No 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 Kevin Eh quando vado al lavoro Dura eh Un contro Nel fine settimana Poi scattucchia Quindi non Sì si Giulio Domani sera Faccio anche la pubblicità Dopo Mega gioco nuovo Spillforce E' uscito oggi Quindi dovrei anche Cancellare qualche altro gioco Perché non mi ci sta Sicuramente Mi avrà dato problemi Di installazione Che ci ho Tullard in spiero Comunque sto andando Forte alla fine Ragazzi Con gomme Non usurate Ma insomma Grande deciso Esatto Marco Drums Games Shard of Design Esatto esatto Racing Team No tema Non è lanciatema Grande Shard Esatto esatto Il nostro team È il team di Marco Drums Games E Shard of Design Grande Shard Ha fatto Tema No perché c'era La lanciatema Non è Sennò poi Magari credono che Corriamo con la lanciatema Dai vai a vederla Vai a vederla Così ci dici In tempo reale Deciso se ti piace o no E scaricala Mi raccomando Se hai la biarezzetta La metti su Così quando giochiamo insieme Andiamo tutti con la stessa livrea Che veramente ragazzi Spacchiamo Sapete quando poi andiamo Online E ci vedono tutti Con la nostra bella livrea Figata Mamma mia La lanciatema Era top Ragazzi Sì 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 Divertente È bello Si corre seriamente Ma si corre anche a sportellate Ci si diverte Dai 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 Mi piace un botto Mi piace giocare serio Mi piace giocare anche ogni tanto a sportellate Mi piace il nostro gruppo Che è fantastico E quando corriamo insieme È fichissimo E la lanciatema La lanciatema Col motore Ferrari Ragazzi Io l'avevo vista C'era uno Un signore qui Che ci aveva fatto andare Una volta E ci siamo fermati Abbiamo aperto il cofano E ci aveva il motore Ferrari sotto Mamma mia ragazzi Che roba Ok Gran Turismo 7 Allora io adesso Sto facendo i soldi Per la Soprattutto le sportellate Esatto esatto Poi quando c'è Carla Assolutamente Posteriorazione Marta stampa In giro Caspita Eh Sarebbe da fare Sarebbe da fare Bei cartellonazzi in giro No io volevo Fare le magliette ragazzi Ma veramente sta diventando Quasi un'impresa incredibile Dovrei trovare qualcuno Che me le stampa In Sud Corea O roba del genere Perché sono tutti fuori di testa Qua come prezzi E Così potevamo Trovarci tutti Al Al Alla Games Week A Milano A novembre Ci sarà La Games Week E con le magliette Fighissime Tutti con le magliette Marco Drums Magari sapete Andavamo in giro No E tutti che ci guardano Perché abbiamo tutti La maglietta uguale Madonna ragazzi Incredibile Poi ci sarà anche L'amico Morris Che lui già Di pubblicità E sponsor Ne ha un bordello Così magari ci presenta Ai suoi mitici amici E gruppi E magari nasce qualcosa Di fighissimo Eh sarebbe bello Giuri Caspita Ma veramente Ti giuro Sono pazzi Sono pazzi Sono pazzi Come prezzi Sono veramente Dei pazzi Per stampare 50 magliette Ti costa di più Di stampare 10.000 È una roba incredibile Quella Emanuele Oh Arrivato Emanuele Emanuele No 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 Apri Dai Audi Ciao Emanuele Grandissimo Come stai Via 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 gatto Anche il gatto Ragà No dai Mina Via Mina Via Via Anche il gatto Ragazzi Non vedo quanti giri Mi mancano Della benzina Mina Tutto bene Emanuele Grandissimo Sì 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 Tutto bene Fa un caldo boia Un caldo becco Dipende come In pratica Più la spesa Che l'impresa Sì sì no È assurdo Cioè Allora A parte quelle che devo regalare Ma se devo vendere una maglietta Che la pago 25 euro io Tra la maglietta E la stampa Capisci che è improponibile Cosa devo vedere Bello di una maglietta 50 euro Non me la compra nessuno Capisci Deve rimanere Un prezzo contenuto E non c'è nessuno Nella zona E che non Che Eh no dai Troppo Troppo E invece Vabbè Il merchandising L'ho fatto io Comunque se volete Comprare le magliette Già ci sono Online E lo fa Steam Stream Elements Me le sta vendendo Come le tazze Eccolo qua Grazie grazie Giulie Il mio merchandising C'è già Però è quello fatto Da Stream Elements Quindi Prezzi Un po' altini Però fanno tutto loro Quindi ho dato il mio logo Ho dato il mio consenso E fanno tutto loro Stampano Fanno Spediscono Fighissimo Fighissimo Però volevo fare una roba del genere Trovarci tutti La Games Week Il sabato Il sabato La Games Week Così più o meno tutti Siamo tutti A casa dal lavoro Chi più chi meno E fare una cosa Veramente Fighissima Di andare in giro Tipo Banda 10 20 30 Di noi Con la maglietta Stato Fighissimo Vediamo Se riusciamo a farla Quest'anno Se no la facciamo La facciamo l'anno prossimo Oh madonna Sta macchina Quando fai destra e sinistra È come la Schardel Bisogna trovare un assetto Per sta macchina Perché è come la È la La Lamborghini È uguale È la stessa roba Della Lamborghini Ma tu vuoi dire Che devo entrare dentro A far benzina All'ultimo giro Porca miseria Ragazzi Devo andare a far benzina All'ultimo giro Io non ci credo 1 e 1 No Ultimo giro No Ce la faccio Ce la faccio Ma pensavo che ce n'era un altro Andiamo un po' pianino Vediamo un po' Con l'inerzia della macchina Senza consumare benzina Mamma mia All'ultimo giro Lo sto facendo Sulla saponetta Non capisco perché Quest'Audi Alla fine della fiera Agli ultimi giri E non è Non è Rosso le gomme Sì un po' quelle dietro Ma niente di che Ci ha fatto la robina Facciamo una partita Alla insieme Come andà Figa ne? Dai la mano alla mamma A caricarla Sto già caricando Ah Vabbè Va giù lì Ha messo la Nostra bella Olli E ore Che mezzo ha letto Oh Ma porca Ma porca miseria Ma sei serio? Vai Ma ci credete Ma ci credete Che sta macchina Dei cavolini Di Bruxelles Si è girata sul dritto? Ah va Fanculo Cioè dai Si è girata sul dritto Ma vai A quel paese Bellissima Tutta di Marco Drums Games 700.000 Oh Solo 1 e 7 avevo Come mai 3 e 4 ragazzi Oh Vediamo un attimo La livrea Che bella Guardate ragazzi Guardate la livrea Ma hai visto Lord Sulla finale Poi vado a vederla Alla fine Guardate che bella La livrea Pettina raga Pettine verde No Dov'è il pettine No Oh Guardate che bella Che bella Che bella la macchina Che bella la macchina raga Guardate che livrea Bianca Rossa verde Colori bellissimi Grigio Quel grigio lì Sulle portiere È fantastica Infatti Gli ho detto L'amico Sharder Di mettere Il nome davanti Dietro E sulle fiancate Così si vede Da qualsiasi angolazione Si vede Questo capolavoro No Aspettate Volevo vedere Un pezzettino Proprio Marco Non è Non è Non è Oh Quello era bello Una bella foto Eh raga Guarda che bella Guarda che bella Guarda che bella Che bella Sta foto No Qui è bellissima Facciamo una bella foto Eh raga No Così va bene Così Che roba Oh Guardate quella tipo là Guarda Caspita Sembra vero Oh raga Eh figo Non è stato facile Eh lo so Lo so amico mio Penso che sarà Un bel casino Un bel casino Amico Sì 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 È tosta È tosta Farle È veramente Tanta tanta roba Amico Condividiamola Audi Ciao amici Ma per uno Team mettiamo solo Ok Poi Follow Mi on twitch Marco drums Games Cena Ok Questo mettiamo Marco drums Marco drums Sharder 58 E mettiamo Audi Eh I tag Per cercarla Che caldo Ragazzi Che caldo Che caldo Ragazzi Che caldo Che caldo Grazie Giulie Bellissima Ok Volevo solo Vedere una cosa Ragazzi Poi All'ultimo Giro Sì sì Quasi Quasi Lo voglio Anch'io Sai Vediamo Che bella Che bella Che è Sta macchina Che bella Grazie Sharder Guardate Oh Eccolo Qui Eccolo Qua Vediamo Un attimo Voglio proprio Vedere Perché è Partita Via Probabilmente Ho sbagliato Io Eh Eh sì 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 Anch'io Anch'io Giudi Sto morendo Di caldo Dappertutto Sto sudando Dappertutto Vediamo Ah Così è partita Così E lo sbandieratore Dice Ma dove è finito Marco Drums Guardalo Guardalo Che piano Pianino Eccolo 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 Ciao A tutti Dentro Stavo Madonnando E per fortuna Avevo 24 secondi Se no Eh comunque Era qui È il tipo Eh Non è che Non è che C'avevo 24 secondi Sincero Eh Vabbè Vabbè C'avevo 24 secondi Comunque Ok raga Dai Andiamo Sharder Cosa facciamo Lino Me ne faccio un'altra Dimmi tutto Intanto Facciamo vedere I nostri amici La BRZ 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 Ok Ok grande Ah che bello Niente c'è proprio qua Quello della Bugatti L'ho già comprato Tutte Wow Che fortuna Fortunissima Ok Allora Allora Eh La BRZ La BRZ Che poi Sharder Bisognerebbe Farla anche per la NSX Quella è uguale Allora BRZ Eccola qua la BRZ BRZ mia Di Carla E ho quella di Del mitico Kevin Che vado a Cambiarla Amico mio Scusami ma Mettiamo quella Della C'ho tre BRZ Tra l'altro Mi sa che ho preso un po' di soldi A cavolini di Bruxelles Prima anche Allora Livrea Raccolta Eccola qui ragazzi Guardate Che meraviglia Guardate Che meraviglia 2005 Caspita Guardate Che meraviglia Andiamo a provarla Ah no dai La proviamo No la provo Adesso Sharder Mentre fai la La livrea Voglio vederla Proprio Correre Dai muoviti Muoviti Tirala giù Ciao mio amor Oh Che sei arrivata Ciao a tutti Uh Guarda 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 Cosa ha fatto Il mitico Sharder Amiga Eccola lì Che ti ha visto Ciao Sharder Guarda E' la nostra Accademia Wow Eh Florida sta a dormire Eh vabbè Fagli una carezza Accademia Scuderia Italia Bellissima Guarda che roba E guarda l'altra Mio amor Guarda Claudi Eh no Devi metterti di là Baby Guarda Bella Guarda che roba Fantastica questa Guarda il Teams Sì sì Ho svegliato Ah no Poverino Marco Drums Games Dietro Che bella ACI ACI Che quello Dell'ACI Bellissima Che roba Bellissima Milady Lord Ti ha salutato Amo Mi amore Ciao Patata Ma perché non ti metti un po' qua Non devi fare i cazzi tuoi No Devo aspettare Vito Perché devi fare la doccia Mettiti qui un attimo Un po' di spritz 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 Ecco Ho dato il telecomando Allora Spritz 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 Volevo fare Spritz 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 Eh vabbè Allora Ok Sta in lobby Faccio Giusto Questa Sharder Perché Perché No che facciamo vedere La libreria che hai fatto Amico mio Scaricatela Frac Tutti Tutti Ragazzi Spritz Spritz Buono Spritz Eh sì Sì ma abbiamo fatto senza di me Eh no non ci sei mai Baby Vai sempre a camminare Sempre in giro Ma Tocchi in giro con tutto Eh sì Oh Che legnate Che legnate Guarda Oh la la Bellissima eh la libreria comunque Guarda che bella bianca Che bella bianca Con quella azzurro e blu La prossima sarà per te amica Oh che bella Una bella libera per Carla Bisogna cercare Il cuoricino Bisogna cercare il La macchina però La macchina però C'è il top bala Già Sì è vero Bala anche tanto Con spritz Con spritz Sono qui che sto sudato come un cretino perché ho venuto lo spritz Oh Genesis Ma non si frena in sci Qui sta evitando con la mano Eh Eh ho capito C'è il Genesis lì che è Bellissima Sotto la panca la capra Scagazza Genesis Vabbè scusa Ah 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 Eh beh sì Sono andato un po' addosso Volevo farla un po' più Sgamus Eh Giulia lì Sopra la panca la capra Sota la capra La campa Panta Andato il cervello ormai Andato Andato Giulia Cervelino andato Nooo Ah 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 Sopra la panca La capra Canta Sotto la panca La capra Fa la cacca fosforo e mandamelo sto fosforo però è sei mesi che mi dici che mi mandi fosforo ci vogliono gli omega 3 e gli omega 4 e gli omega 5 33 trentini tre travano pallellando a trento ma un giorno Giulia ride forte vorrei vedervi a voi correre a trecento all'ora a far tutto perfetto e usare anche gli scioglilingua scioglilinguas suertes madonna il bierezetta è tanta roba il bierezetta è tanto ferma però ciuccia bella tosterella il bierezetta non me lo ricordavo che era così così fissa il bierezetta anche l'erba va è vero eh si eh si eh si oh vito vito mi dai il telefono per favore trentini entravano a trento tutte tre 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 tranto trovo l'erlando rambabellando ho 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 flowers victory madonna due giri e troppo a poca roba guardate ragazzi o braga di tv holly che vieni patata holly che c'è anche holly ecco vedi che è arrivata holly bellissima ragazzi bellissima sta macchina bellissima dai 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 allora sharder brz e cosa mio amore allora ho audio birra z dimmi tu sharder audi è un po tosterella si è sempre lei perché è una in foto bimbi belli bimbi brutti bimbi che fanno i ruti audi bella ci sta ciao ragazzi ciao amici amiche come state tutto bene tutto dove ragazzi dai scrivetevi al canale allora vediamo un attimo sharderino dai vediamo un attimo cominciamo a farne una vediamo l'orario perché io dovrei farne allora se tre quattro due quattro milioni altre due gare per poter comprare quell'altra se facciamo una mezz'oretta faccio un'altra mezz'oretta mi manca solo una gara che posso farla domani bimbi belli bimbi brutti bimbi che fanno i ruti non mi ricordo dove l'avevo sentita ma era un cartone animato finissimo tra l'altro ok allora se no quanti giri hai fatto sharder eccola che sta correndo 1.39 bella lì sharderino ah è quella dell'altro giorno allora se molli l'acceleratore sta macchina va non si può mollare l'acceleratore assurdo assurdo è come le lambo caspita dai che devo prenderci la mano ok eh si va bene dai bimbi brutti bimbi che fanno i ruti era proprio quello era bellissimo non mi ricordo che il cartone animato era oh mio dio x art ah no è in png immagini dici png scontornato che non c'è i bordi finali io non so neanche se ce la faccio a usarla sta macchina sharder eh bella tosta eh bella tosta sta Audi eh beh devo imparare eh non è che si può fare sempre con la macchina che mi piace di più devo imparare amico mio però ho lo stesso problema che avevo con le lambo no? ho lo stesso problema che mi ritrovo che avevo con le lamborghini madonna tre secondi di più amico mio ho lo stesso problema con le lambo che quando vado a dar giù di gas mi parte eh anche tu non sai dove mettere ste lamborghini vero? eh si eh si lord grande grande lord questo mi è piaciuto un botto eh e in prima sono andato ragazzi 150 all'ora in prima e sono usciti fuori tutti i cilindri sono usciti fuori no 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 cosa non capisci ti sento perchè parli o moreno? no ha fatto parli tato ti sento? se parli ti sento? ti sento? se parli ti sento? oh qualcosa sinceramente oh questa macchina andiamo a vedere Sharder vediamo sta correndo si eccolo qua eccolo qua grande Sharder anche lui la macchina qual è la mia? che figata che figata amico che figata davvero che figata guarda è la stessa ma oh è successo qualcosa la partenza potenza potevi finire il giro amico mio grazie 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 Giori eh appunto dove le mettiamo tutte queste lambo? via 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 Whatsapp DESIGN T-e-e-s-i-g-n DESIGN I духовo design G-n anzi ilات lato Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.